potete scegliere in base all'estetica, in base all'utilità, stili diversi, in base al suono due categorie hai scelto? 3, 2, 1 ciao, ciao, ciao ciao, grazie di essere qui, 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 con me oggi oggi voglio fare un video che vi è piaciuto molto l'anno scorso e volevo riproporvelo mi piaciuto anche a me e sto parlando del video che vi fa prendere decisioni del this or that un atto giusto, non lo so riproviamo tirandomela con l'inglese proprio tanto che non so this or that ditemi voi, non lo so quindi oggi appunto il video di oggi sarà concentrato, sarà dedicato a farti scegliere tra diversi oggetti in base a criteri che deciderai te io ti chiederò solo di appunto decidere fra un oggetto e l'altro e questo video oltre a essere rilassante appunto perché è un video smr perché farò diversi suoni sarà anche se volete utile a chi fa fatica a prendere un pochino di decisioni quindi è sempre indeciso rimando le decisioni un sacco ecco questo video serve per farvi prendere delle decisioni che in realtà non hanno conseguenza cioè volete scegliere fra un certo e l'altro non succede niente se scegliete uno o l'altro però può aiutarvi un pochino a sbloccare questa vostra paura quindi è pensato anche per questo ultima cosa prima di cominciare ultime due e vi chiedo ogni volta che scegliete un oggetto di scrivermelo nei commenti che ne so di dirmi pennello piuttosto che tastiera non lo so e quindi ogni volta che avete fatto una decisione scrivetemelo nei commenti e poi voglio vedere tutto ciò che avete scelto seconda cosa se questo tipo di video vi piace ricordatevi di mettere un bel mi piace per supportare il canale e io vi ringrazio cominciamo subito partiamo con la scelta fra due candele due candele molto diverse fra loro speciali per motivi diversi quindi non importa in base a che criterio deciderete ma l'importante è che tu riesca a decidere fra una candele o l'altra allora la prima che ti faccio vedere è questa fa parte di quelle tipologie di candele caratterizzate da uno stoppino più spesso te lo faccio vedere e questo stoppino ha la funzione di ricreare un pochino il suono del fuoco adesso la accenderò per pochi secondi giusto per farti sentire a questi colori pensati per essere un po' calmanti che vanno da lì l'azzurro fino al bianco piace tantissimo il tapping sul vetro sul vetro pieno molto più che questo invece questo però prima volevo togliere l'etichetta e anche questo tappo in legno che poi serve per spegnere la candela senza fare fumo perché l'appoggi qui sopra si spegne perché manca lo stigero ma non rilascia insomma tutto il fumo della candela spenta solita ok andiamo ad accenderla ma cosa è successo? nel prendere la candela tipo mi sono riempita di cera i pantaloni vabbè ci penserò in futuro comunque mi apri un attimo alla sprovvista guardiamo se riesco e adesso e adesso e adesso lo avevo scelto la cera sul microfono quindi magari prendo un fiammifero cosa dite? mi sono decisa a prendere i fiammiferi ok ve l'ho fatta appunto ascoltare altre volte e sicuramente ve la ricorderete se chiedete a me non sono troppo forte non sono sia difettosa questa io ne avevo un'altra così e lo facevo non sono così forte proprio magari mi spardo ok ci ho messo il coperchio sopra perché cominciamo anche a fare un suono strano non lo so con le altre candele di questa linea non mi era mai successo la seconda candela è questa di tutt'altro stile proprio queste vengono di quelle candele tipo un po' di lusso un po' pretenziose un po' anche da usare proprio per decorazione basta anche il profumo è molto elegante particolare sa quasi di profumo proprio profumo da indossare e anche questa qualcuno se la ricorderà perché appunto fa un suono stupendo la marca è Inso di Gasperi e la fragranza è Morgan Rose sono stupendo stupendo è da un po' che non è inserisco anche un video quello che con me suona basta dimmi se la vorresta è meravigliosa per me è proprio bellissima infatti ci stai fatta a posto però è veramente stupenda andiamo ad accenderla e questa lasceremo accesa perché la mettiamo nello sfondo non si sta facendo andorli ragione di è andato un po' di fiammi però sta andando un po' di fiammi dentro la candela tolto più o meno questa fa è una della tipica candela che bello comunque vedersi non so con la candela così molto così non fa praticamente rumore no però non si sente la fragranza ecco però molto bella mi piacciono entrambe per motivi diversi adesso prima di rimetterla via come sfondo ti faccio scegliere quindi quale scegli come le chiamiamo quella sgricchialante o quella elegante pancherino quindi una sei cinque quattro tre due uno decidi ok grazie di aver preso una decisione e se vuoi scriviamelo nei commenti quella bella che si vede un pochino il reflex della luce molto bella tra l'altro non capisco perché non la usavo anche come decorazione secondo me è bellissima ho messo come decorazione nuove sia questa che le citra molto carina sia appunto questa candela penso all'inter entrambi quando tengo questo set perché sono veramente carine anche insieme ditemi voi se vi piace ecco molto elegante qui dovrete scegliere probabilmente in base al suono e abbiamo due suoni un po' clicky diciamo così abbiamo questi due questi due che possono ricadere tutte e due nelle categorie di giochi uno è un gioco un po' più per bambini anche un po' un antistress e anche in realtà questo è un antistress ok un sacco di cose in comune e ti chiederò dopo aver ascoltato questo e dopo aver ascoltato questo di scegliere fra questi suoi oggetti quale hai preferito ok cominciamo dall'ora costa ogni volta che faccio questo suono devo tipo metterci cinque minuti per capire come cavolo si faceva così ok ho applicato il colore pieno assuso di questo gioco proprio un po' Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E a me fa questo, non capisco, è tipo quando lo ordini su Wish e quando si arriva a casa. No, comunque questa è la prima opzione. E qui abbiamo il cubo, cubo, cubo di Rubik, Rubik. Abbiamo anche il topping. Grazie a tutti. 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 Quindi, adesso ti do dieci secondi, sei secondi facendo il countdown per scegliere fra... Ce l'avevamo così, non mi ricordo, per scegliere fra l'aragosta o il cubo. Sei, 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 cinque, tre, tre, due, uno... Hai scelto? Scrivimi nei commenti cosa hai scelto E complimenti Se fai fatica a prendere decisioni Ma ce l'hai fatta La prossima scelta E fra due cover per telefono Allora La prima E senza telefono E da Dopo ora faccio vedere comunque Tutte queste tigri Molto elegante Un po' seria, un po' misteriosa Questa invece E' una cover rosa Con delle margheritine Adesso le faccio vedere entrambe Vi faccio sentire i suoni ma sono lo stesso modello Quindi saranno molto simili Facciamo un po' di tracing E poi andremo a decidere Allora La prima punta Vi faccio vedere questa Tappiglia Stupenda Anche qui non me l'aspettavo E ti faccio vedere Com'è fatta Allora Entrambe hanno questa Questo bordoro E questo è fatta Da Tutte queste Tigri Lattico è un animale Che non ho ancora avuto L'onore Di poter vedere Di poter incontrare E Ha tutte anche queste foglie Queste palme Direi Allora In realtà Aspettate Qui c'è un leopardo Ci sono Una fila con i leopardi E una fila con le tigri I leopardi Vanno verso Non è vero Non è la sua direzione Ci sono due file Una fila di tigri Una fila di leopardi Che va da una parte Poi una fila Di tigri Una fila di leopardi Che va dall'altra Eccetera E appunto Ci sono queste foglie Molto tropicali E lo sfondo È Bordeaux Ripeto Per me è molto elegante Molto serale Come cover Mi piace molto La seconda È un po' più Primaverile È un po' più Leggera Non lo so Mette di buon umore Comunque E Mezzo fin direi Il suo solo Con il cellulare dentro Quindi Dovrebbe risultato Un po' diverso Con il cellulare dentro E appunto Facciamo un po' di tracing Abbiamo tutte queste Margheritine Alcune Poi le avvicinate Fra loro Con l'interno Quasi lanzone Tutti i petalini E delle foglialine Intorno E lo sfondo È rosa Quindi come se fosse Un prato Pieno di margheritine Ma su una Sappia rosa Molto carino Oppure Appoggiate Su delle nuvole Rosa Ecco Adesso Conto Fino a sei E tu appunto Hai questo tempo Per Prendere La tua decisione finale Ok Quindi Sei Cinque Quattro Tre Due Uno Quale hai scelto? La cover con Tigri E leopardi O la cover Con le margheritine Dimmelo nei commenti Se vuoi Sono curiosa Prossima scelta Sempre fra Due categorie La stessa categoria Ma due Forme diverse Due Tipologi diverse Due Stili diversi Non so come dirlo Diverse D'oggetti diversi Ma della stessa categoria Ok Quindi Adesso andiamo a vedere Questi due cerchietti Bene E poi ti chiederò E decidere Tra quello nero E quello bianco Cominciamo da quello nero 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 Allora A questo ci sono Affezionata Perché E Era Mia madre Insomma Me l'ha dato Me l'ha regalato mia madre Perché L'indossava da giovane Perché andavano molto di moda Questi cerchietti Un po' Grandi Un po' Voluminosi A me sono sempre piaciuti Cerchietti Indipendentemente Dalle mode Onestamente E Sono sempre piaciuti Questi in velluti Li ho sembrato E' molto eleganti Non so se lo potete vedere Riusciate a vederlo Secondo me Sì Ha tutte queste Perline sopra Che Praticamente Non se ne è tolta Non mi sembra Se ne sia tolta Neanche una E avrà Più di vent'anni Questo cerchietto Non c'è scritta Nessuna marca E Appunto Tutte queste Perline Sopra Queste decorazioni Appunto In vellutino nero Lo faccio vedere Indossato Vabbè Quello sto indossando Molto male Però questo è il concetto Non mi piace Come lo sto indossando Aspettate Metto i due ciuffetti Davanti E mi metto Il cerchietto Vabbè Vabbè Più o meno Se non riesco a mettermelo bene Comunque La vestibilità è questa Sta così in testa A me piace tantissimo E' molto comodo E io ne indosso spesso Se magari i capelli Comunque sporchini Ma non troppo Adesso ogni volta Che mi trate Il cerchio Pensate Ai capelli sporchi Tipo sapete Quel giorno Prima di lavarli O come Quel giorno Prima di legarli No Quindi non li puoi tenere Sciolti così Ma non li vuoi neanche legare Perché la fine Non sono così male Cerchietto Questo è il mio cerchietto Proprio preferito In assoluto Io li amo Adesso sono tornati un po' di mode Cerchietti luminosi E li ho sempre indossati Quindi Prima o poi le mode Tornano sempre Molto belli Il secondo cerchietto Invece E' di Zara E' Di Tre anni fa Almeno tre anni fa Sì Forse anche quattro E L'ho preso Per fare una collaborazione Tema Halloween Con Feri SMR Federica Non so chi si ricordi Quella Quella collaborazione E io interpretavo Tipo una principessa E E E avevo preso questo cerchio Che mi sembrava molto Regale Molto elegante Ha tutte queste perle E' molto bello in realtà Era il periodo delle perle Ovunque 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 Che poi un po' Sto intorno Non posso Scusi mai niente Fa uno stupendo E questo se volete Potrei riproporvelo Mi viene in mente Che Dovrei fare un inventario Di tutti gli oggetti Che ho Per fare SMR E non Che provano me solo Che ho e non vorrei di una cavolata ma penso che questa è stata l'ultimissima cosa che ho preso da Zara comunque non ci acquistavo già però ho detto vabbè lo prendo comunque perché mi serve e è fatto malissimo e tutto è regolare ma non mi aspettavo altro e tutto è regolare qui fa malissimo da indossare cioè dovresti tipo o tagliare queste perle cercare di spostarle in un qualche modo perché senti proprio le perle sulla testa e fa venire proprio male male la testa quindi dovrei trovare un modo di togliere queste ultime perle o spezzarle o mettere dei cuscinetti perché in sé è anche bello però è veramente importabile ripeto cosa ci aspettavamo? lo faccio vedere adesso non lo sto andassando bene però vedete è molto carino in realtà cioè a me piace molto però dopo un po' comincia proprio a far male comunque questo è il secondo cerchietto esteticamente forse preferisco questo però qui vi dico la mia decisione ma voi potete decidere quello che volete ovviamente e lo sapete che il mio cuore va sempre al vintage allora adesso ti chiedo di scegliere fra il cerchietto nero o il cerchietto bianco quindi scrivimi nero o bianco fra 6 5 4 3 2 1 hai scelto ok molto molto bene sono veramente fiera del tuo risultato comunque veramente fiera che tu sei riuscita riuscita a scegliere soprattutto un buon dosi hai difficoltà a prendere decisioni comunque c'è quella candela che ormai ha ha fatto il suo percorso ha raggiunto diciamo che è ora di andare in pensione per quella candela ok adesso ultima 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 decisione che ti faccio prendere sempre fra due prodotti molto simili della stessa categoria prima di farmi prendere l'ultima decisione volevo solo farvi ridere perché praticamente quella candela sopra stava facendo ho già fatto disastri ecco tutta la cera sul microfono sui miei pantaloni e poi stava facendo stava colando non so se la vedete qui vediamo se riesco a metterla a fuoco qui stava colando tutta la cera e stava colando anche sul pavimento c'è un disastro a un certo punto siccome sentivano proprio le gozze non so se ci avrete fatto caso comunque ovvio disastro torniamo a noi l'ultima decisione è fra due pennelli uno piccolino molto fluffy la scelta sarà fra questo pennello questo pennello allora ve li mostro faccio capire la differenza e vi do le caratteristiche per insomma prendere la vostra decisione considerarlo un po' tutto potete scegliere in base all'estetica in base all'utilità in base al suono in base al braccio in camera quello che volete facciamo da quello più grande quello più grande quello più grande questo sicuramente per l'smr è molto morbido è molto morbido fa un suono molto delicato molto bello sul microfono e ha la famosa roma in coda sirena sapete che io amo 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 questo suono quindi perfetto per l'smr oggettivamente carissimo forse un po' extra per alcune persone però è molto carino e però è una cinesata proprio pesante penso che per truccare non sia il massimo non so se sia la cipra o cosa ma non è il massimo della qualità probabilmente è il pelo non è la massima della qualità non preleva le polvere in maniera adeguata insomma più bello che altro la sua funzione è estetica e per l'smr è fantastico andiamo a vedere anche il braccio in camera com'è ovviamente è un pennello un po' più grande quindi copre la maggior parte dello schermo e ovviamente ho scelto di fare questo trigger per un attimo perché nel caso tu abbia ancora gli occhi aperti adesso non resisterai e li chiuderai e ti lasciati invitare lascia lasciati tentare nell'invito del pennello a chiedere gli occhi lasciati aggrezzare il viso dolcemente passiamo alla seconda scelta questo invece è un pennello proprio per make up professionale è della mulac in realtà per me comunque è bello come pennello però sicuramente è più semplice da avere nell'occhio ed è un per i più esperti i più esperti lo sapranno ma smager smager brush penso serva per smager non so se sia tipo smussare non lo so ditemi se lo sapete penso serva quando hai fatto tutto il make up un pochino per si smussare i bordi sfumare bene renderlo uniforme sto dicendo una cavata dimmelo ecco quel nome è questo questo qui questo qui questo qui il nome è questo qui adesso quindi questa differenza dell'altro ha una buona qualità e ha realmente una funzione è più sobrio a questa parte per una presa molto più morbida perfetta per la presa fa un rumore non sono più deciso sentiamolo sul microfono molto diverso perfetta Grazie. Su questo microfono mi piace di meno, non so perché, comunque, è un po' sorriso, questo ovviamente ha un effetto diverso, ha un effetto più di precisione, però secondo me anche questo è molto interessante, mi fa venire un sacco di brevitini e sonno. Anche questo ti fa voglia di chiudere gli occhi, mi avvicino un pochino, comincia ad accreditarti il viso, un po' quasi a scriverti, a spennellarlo, a dipingerti sopra. Sì, è che di andare lento, 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 lento. Sì, è molto bello che mi stai facendo. Carino, carino. Ok, adesso, ultima decisione di questo video, fra pennella sirena e pennello professionale. Dimmi quale scegli, fra sei, cinque, quattro, tre, due, uno, quale scegli? Ok, perfetto. Scriviammelo anche in commenti che sono curiosa. Molto bene, il video si conclude qui. In realtà io avevo tantissime scelte ancora da farvi fare, però non voglio far risultare questo video monotono. E soprattutto, sono lentissima, c'è, però savo di farci stare dieci scelte, ce ne ho fatte stare cinque in questo video. Ecco, comunque, spero davvero che questo video vi sia piaciuto. Perché no, sia stato anche utile per qualcuno di voi. Ditemi nello sfondo, ditemi se vi piace questa tipologia, ditemi se vorreste sentire alcuni suoni che vi ho proposto. Ditemi, 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 ditemi che io vi leggo sempre e per me è importantissima la vostra opinione, ovviamente, perché faccio video per voi. E io vi ringrazio appunto. Penso proprio, penso proprio, penso proprio, penso proprio, ma penso proprio, proprio, proprio. Si è aggiunto l'ora di abbassare le luci. E augurarvi, 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 augurarvi a te, a te, a te, a te. Buona buona, buona notte. Buona, buona notte. Sogni d'oro. Sogni d'oro. Sogni d'oro. Good good night. Sogni d'oro. Buona notte. No, just notte. Just notte. Sogni d'oro. Sogni d'oro. Sogni d'oro. Sogni. Sogni. e te scioglieremo good night le canoche le canoche buon notte piccoli pasticcini un bazzone che li spera